Una riunione costruttiva e collaborativa che si è conclusa con la decisione di ricorrere a una verifica dell'operato e dell'azione degli assessori regionali ogni sei mesi, il primo già a settembre. Una verifica di maggioranza che suona un po' come il resa dei conti o forse più come una sveglia alla giunta e all'intera regione a pochi mesi dalla sua elezione, prima di chiudersi nel torpore delle ferie estive che scatterà già da domani. Il summit regionale chiesto dalla Lega si è svolto così senza grossi strappi, un confronto calmo durato non più di due ore a Palazzo Silone, preceduto però da un incontro ristretto e chiuso ai più tra il presidente della regione Marco Marzio, il segretario regionale della Lega Giuseppe Bellachioma e il deputato e commissario della Lega in Puglia Luigi Deramo, tra i fedelissimi quest'ultimo del leader del partito Matteo Salvini. È stata una riunione molto utile e costruttiva, fatta con uno spirito di reciproca collaborazione ma non avevo dubbi che sarebbe stata un'occasione utile intanto per fare presto perché abbiamo tanti dossier aperti e tante cose da fare e quindi non ho voluto restare un solo giorno in attesa di una richiesta venuta da un partito importante come la Lega e quindi era giusto soddisfare il più presto possibile questo passaggio. Fra un mesetto circa andremo a rappresentare pubblicamente il risultato di sei mesi di lavoro e ho chiesto quindi agli assessori e alle forze politiche di lavorare insieme per fare in modo che questa presentazione non sia soltanto una celebrazione del buon lavoro fatto e della rivendicazione delle tante cose che abbiamo fatto in soli sei mesi ma anche la presentazione di un prossimo calendario di attività. Abbiamo parlato di diversi casi, abbiamo un po' esaminato tutti i dossieri, non ce n'è uno in particolare, abbiamo affrontato temi che riguardano rifiuti, sanità, infrastrutture, masterplan, come si assumono le decisioni, come si migliora un rapporto anche di scambio di informazioni e di condivisione delle scelte, insomma tutto qui. La Lega ha chiesto e otterrà in base a quanto ha dichiarato Marzilio a termine del summit una delega ad hoc ad assegnare a un suo assessore per l'autonomia regionale. Daramo smentisce che la richiesta di una verifica della maggioranza regionale sia legata alla crisi del governo. Noi abbiamo fatto delle richieste chiare, vogliamo che ci sia una cabina di regia per quanto riguarda la gestione dei fondi del masterplan, questo per evitare che ci siano degli interventi che non appartengono ad una logica di pianificazione complessiva e generale sulle quattro province. Abbiamo detto che c'è la necessità di migliorare l'azione legislativa e amministrativa di alcune deleghe. Concilianti toni anche del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in quota Forza Italia. Non vi è nessuna scollatura in maggioranza, si devono registrare dei metodi di lavoro e soprattutto bisogna dare un colpo di reni e un'accelerazione ulteriore in alcuni segmenti del governo regionale, mentre in altri ritengo che abbiamo già fatto molto.